L'obiettivo di oggi ragazzi è quello di riempire il cartone di uova, in realtà, di uova, perché gli star droppini rari sono carini, però sicuramente è meglio un bel uovo. E quindi oggi andremo a giocare Godzilla l'attacco dei mostri, vi parlerò anche di cosa ne penso e fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa nuova modalità e di questo evento su Brawl. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace per supportare i video di Brawl Stars e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti, anche perché stiamo caricando due video al giorno, quindi recuperatevi anche quelli di ieri, l'altro ieri, eccetera, eccetera. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGY, non ti tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi ogni settimana a scato, quindi voi lo dovreste reinserire. Grazie per lo di cuore a chi lo farei, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi appunto al canale e lasciate like come vi stavo dicendo. Io direi che per questa modalità ci andiamo a mettere o stecca o colt, però li vorrei provare un po' tutti e due. Ovviamente ragazzi le mutazioni le ho sbloccate tutte quante, sono appunto nei video di ieri e dell'altro ieri, quindi recuperatevi tutto quanto. Abbiamo anche shoppato l'intero pass, tra virgolette, delle mutazioni con le varie skin anche di Brock, eccetera, eccetera, quindi recuperatevi un po' tutto quanto. Anche loro c'hanno stecca e il loro è anche una leggenda, quindi sicuramente sarà più bravo di me. No raga ho sbagliato il gadget, ma io lo sapevo. Io lo sapevo che sbagliavo il gadget, cioè non è che ci stavano troppi dubbi e infatti vedi quello c'ha il gadget giusto. Però a me in realtà mi ha fatto più male la EMS, eh? Più male la EMS che altro, se devo essere sincero. Mi ha fatto più male la EMS che altro. Ok, va bene. Chiedo di aver fatto anche dei danni in giro, non lo so. Ok, bei danni anche qua. Ok. Ok, ragazzi, una bella ultina qui. Ok. Eh raga, però ci stanno battendo loro, eh. Stanno battendo. Io qua, regana, tripla ulti una dietro l'altra ho tirato però, eh. Ok. Devo dire, raga, qua mi son fatto full team però, eh. Nonostante tutto. Dai, dai, dai un po', Pam. Dai un po', dai un po', dai un po'. Sta fermo il loro megagozzillone? Vado a far fuori un po' di robettina. Che cacchio ho fatto, raga, per farle rimbalzare un po' di più, però speravo di prendere. Aia. Bravo. Di fare un po' più di danno. Dai, Pam. Anche se certo, qua il danno non lo dovremmo fare noi, eh, Pam. Qua dovrebbe farlo il coso. Per mostrone. Il nostro mostrone lo dovrebbe fare. Pam ha i colpi infiniti, raga, con la mutazione. Quindi è tanta roba. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto, raga, anche questa kill. Dobbiamo recuperare un po' di vita e continuiamo a sparare. Eh, vabbè. Ok. Ok. Mamma mia, sono andato a prendere anche l'altro stecca! L'ho killato, quasi senza volerlo. Dai, 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 Pam. Dai, Pam. Oh mio Dio. No, 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 no. Ti prego, adesso no, però. No, no, no. Ti prego, non ora. Non adesso. Mamma mia, rega, il gioco sta esplodendo totalmente, perché la connessione mia non può essere. No, raga, mi ha sicuramente buttato fuori, perché non è possibile che stiamo ancora così indietro. Non è possibile neanche che io abbia killato quello lì, ma la partita dovrebbe essere finita. Allora, o stanno fermi anche gli altri? Sì, rega, stavano fermi anche gli altri. Quindi era proprio tutto in esplosione, rega, il gioco. Era totalmente in esplosione tutto il gioco. Siamo stati i migliori, raga. 168.000 di danno! Il doppio dell'altro stecca più del doppio di qualsiasi altro player. Incredibile, rega. Mamma mia, che partita, ragazzi. Bella, bella, bella. Attenzione. Ok, ragazzi. Piano piano riempiremo la scatola. Andiamo a cambiare il gadget. Io, rega, direi di continuare comunque per un attimo con stecca. Però, ripeto, dopo vorrei tentare anche Colt. Però, raga, se stecca mi dà tutta sta mega potenza, io direi di continuare con lui. Eh, raga, loro hanno un bel team, secondo me, rispetto al nostro, perché noi abbiamo due tank oltre me. Vabbè. Diciamo che va bene. Diciamo che va bene. Ok, qua andiamo a cercare un po' di rimbalzini così. Andiamo a cercare anche un po' di ulti così. L'ho un po' sprecata, probabilmente, la ulti, eh. Però non pensavo che lui mi venisse a dittare fino all'ingiù, vi devo dire la verità. Non pensavo. Forse dovevo usare un gadget più che la ulti. Almeno non la sprecavo totalmente. Ok. Eh, raga, il Frank credo mi farà ricaricare parecchie ulti, eh. Se lo hicco, ovviamente. Se lo riuscissi a dittare. Che non è mica detto. Ah, c'è un po' così che almeno rimbalzano e continuano a rimbalzare. Mamma mia, tanta roba. Ok. Ok, anche qui li facciamo rimbalzare. Madonna, quanto danno abbiamo fatto. Vabbè, raga, ma il nostro Godzilla è un fenomeno. Quanto danno ha fatto qui da solo? L'Edgar prima, raga, un fenomeno. Ah, ma anche BB fa un botto di danno, raga. Ok. Va bene, va bene, va bene. Antormen non posso scappare. Però dobbiamo stare attenti. Aircash anche loro stanno a fare un bel po' di danno e stanno killando anche loro, eh. Andiamo un po'. Se fa un po' così. Un'altra ultina. Qui forse l'ulti l'ho sprecata, un po' too much. Ok. Ok. Attenzione. Brava, BB. Brava, BB. Qua vado a fare un bel po' di rimbalzina e dittare anche loro. Mamma mia, let's go. Questa l'abbiamo dominata. Anche se però in realtà loro hanno fatto parecchio danno, in realtà, eh. Anche loro alla fine hanno fatto un bel po' di danno. Noi abbiamo fatto pochissimi kill perché ci siamo concentrati più che altro sul difendere e sull'andare a dittare anche poi dopo i palazzi. L'uovo, forse però questo è per le cose giornaliere, eh. Questo è per le cose giornaliere. Ok. È un bug visivo qui. Qua c'è, ok. Lì non c'era, va bene. Oh, attenzione. Maestria con stecca. Beh, raga, io sto indietrissimo con tutte le maestrie, lo sapete. E continuiamo. In realtà Colt mi sa che non lo useremo perché finché vado così bene con stecca, chi me lo fa fare di cambiare? Infatti c'è un altro stecca di là. Chester e Spike. Ok. Un altro Frank comunque ci sta, eh. Perché Frank effettivamente con le ulti può andare a bloccare sempre il mostrone. No, raga, non sono riuscito. Eh, vabbè, ho capito. Ah, ok, l'ho ucciso. Ok. Ok, qua pure parecchi danni andiamo a fare. Ok. Andiamo se riusciamo a distrarre un po' quel Frank. Non fargli caricare la ulti. Chester. Ok. Vediamo se prendo bene anche l'Ams. Un po', abbastanza. Ok. Ti vado anche di gadget nel dubbio. Lì dovrei uccidere un po' l'Ams. In realtà no, ci hanno pensato i miei compagni. Allora, andiamo. Aspetta, facciamo una cosa, ma. Tutto tipo una cosa del genere. Tutto tipo una cosa del genere. Abbiamo fatto fuori anche l'Ams. Eh, il problema, regà, mo qua è... Che pure loro stanno a fare parecchi danni e li stanno a fare qualcosa. Ok. Mamma mia. Qua l'abbiamo presa molto bene, eh. Devo mettermi qui a fare i danni così, raga. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mastro stecca. Ma che devo fare qui? Ok. Dai, dai, dai. Bravo, fai fuori lì. Bravissimo. Let's go, raga. Altra grande partita, eh. Qui altra grande partita. Siamo stati di nuovo i migliori. Siamo stati di nuovo i migliori. E stiamo scalando di brutto col buon stecca. Perfetto. Quindi, insomma, peccato per quella sconfitta che ho fatto proprio... Ieri, l'altro ieri. Ragazzi, sto a fare talmente antivideo che non so neanche come e quando li andrò a pubblicare. Allora, il primo è Nita. Di là c'è una Pam. E' di nuovo uno stecca. Dobbiamo stare attenti alla Pam, regà, eh. Perché c'è i colpi infiniti. C'ha i colpetti infiniti la Pam, eh. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Ah, vediamo un po'. Sì. No, no, così state a far caricare troppe ulti allo stecca. Però non mi piace la situazione. No, non mi piace la situazione. Troppe ulti allo stecca. Allora, andiamo a fare un po' di danni qua. In realtà sto ettando anche moltissimo lo stecca, eh. E non poco, signori. E non poco. Dai, dai, regà. Cioè, lo sto a fare tutto io il danno. No, qua sto troppo lontano. Facciamo un po' così. Dai, 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 ragazzi. Allora, facciamo una ulti. Forse è sprecata, ma ci sta. Vediamo di caggettini, che qua andiamo a fare parecchi danni. Ok, qua però rinascono loro, quindi dobbiamo stare attenti. Ok. No. No. Dai, che la piglio. Ok, perfetto. Vabbè, ragà, ma la stecca è troppo forte in sta modalità. Stecca con la mutazione in generale, in realtà. Però qua devo ricoprare un po' di vita. No, mi sta puntando, raga. No, in realtà no. Sì. Ma è itato da dietro il muro, raga? Ma che è itato? Da dietro il muro? Ma più che altro con una facilità incredibile è mettata dietro il muro. Allora, forse il gadget... No, oddio, non l'ho sprecato perché ho fatto fuori la panna, regà. Let's go. Ok. Ho pensato di essere arrivato a fare anche dei danni, però, eh. Ok. Facciamo un po' di rimbalzini così. Facciamo un po' di rimbalzini così. Eh, vabbè, ho capito. Ma che sta a puntare sempre a me? E' il mostrone. Dai un po'. Eh, raga. No, ho mirato malissimo. Grazie, però. Potevi evitarla un attino prima. Perché non stiamo facendo più danno, noi? Che c'è proprio? Qualcuno fermo? Non so se mettermi dietro a difendere, regà. Perché non stiamo più riuscendo ad andare avanti. Oh, mio Dio, raga. Stanno salendo tutti, loro. Ma diciamo che il primo un pochino soffre, effettivamente. Eh, raga, questo gli dovrebbe far malissimo, però, eh. Dai! Fallo fuori, su, che mancano dieci secondi. Ormai dobbiamo difendere. Del primo è andato a far danni. Vabbè, ci può stare. Io lascio lì con l'overdrive, non la volevo vedere. Ok, va bene. Un'altra vittoria, ragazzi. Ci manca un'altra vittoria. Molto bene, però, raga, eh. Molto, molto bene. Bene, perfetto. Star droppino quello giornaliero, super raro. Va bene, va bene. Qui è sempre buggato, però, se andassimo a vedere qua la modalità. Ci siamo, l'abbiamo quasi riempita, raga. Dai che l'abbiamo quasi riempita, via. Eh, raga, lo stecca c'è sempre, eh. Lo stecca di... Eh, è solta pure ringhio. No, no! Non mi volevo trasform... Eh, bro. Era molto meglio se ti trasformavi tu. Io non lo so neanche usare bene, vi do di la verità. Eh, sta partenza un po' così ci penalizzerà, eh. Ok. Ok, raga. Ok. Fino a un certo punto, in realtà... Eh, raga, qua la vedo molto male, eh. Loro stanno a fare molti più danni rispetto a noi. Io, in realtà, sto attirando delle hit lì, eh. Anche se non sembra... Beh. Oh, devo recuperare vita, ho esagerato. Lui, mo' c'ha pure la ulti. Ok. Dovrei farlo fuori. Ok. Allora, recuperiamo la vita. Recuperiamo un po' di vita. Ok, facciamo un po' così. Ho fatto anche il gadgettino. Ah, Frank, però in realtà... Non è proprio quello il lavoretto che dovresti fare tu. Perché nessuno di noi sta prendendo... Termostrone? No, invece mi sa che Frank sta a farmacello. Ok. Perfetto, ho ucciso anche il coso. Il ringhio. Riutilizziamo questo, raga. Asperavo di aver fatto un po' più di danno anche alle strutture. Non è morto? Ora sì, dai che muori. Dai che muori. Dai che è l'ultimo, mamma mia, questa è tostissima, eh. Se non facevo quell'inizio sbagliato, comunque secondo me andava meglio. Però, 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 raga. La cosa importante è che ce la siamo portata a casa lo stesso. Premio dopo la sconfitta. E vabbè, ovviamente lo star droppino raro. Però adesso abbiamo... Abbiamo... Eh, vabbè. Delle uova. Wow. Tutte rare. È incredibile. Oh, tutte rare, raga. Tutte rare. Ma è normale tutte rare? Tutte rare? Ma come tutte rare? Ma non ci posso credere, ragazzi. Tutte rare me le ha date. Non ci posso veramente credere. Oh, mio Dio. Non so se sia normale, però tutte rare. Detto questo, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa modalità. Vi posso dire, appena l'ho provata la prima volta, non è che mi stava facendo impazzire. Con i brawler giusti è divertente. Con Steak, con la mutazione, è troppo divertente. Però perché è sbroccato. Cioè, non so se è effettivamente la modalità che mi piaccia. O è lui che è divertente da usare perché è troppo forte. Tra l'altro, ripeto, nel momento in cui sto registrando hanno tolto le... Ah, le hanno rimesse? No, le hanno rimesse, ragazzi. Ok, le mutazioni le hanno rimesse. Uno dei video che avete visto ieri, in realtà, le avevano tolte. Le mutazioni faceva troppo ridere, sta cosa, ma vabbè. Detto questo, raga, appunto, mi raccomando, un like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ricordo il codice creatore GGY. Non ti tutto attaccando nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Anche tutti gli altri giochi di Supercell. Per me è tutto. E ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuali.